Il Tolentino batte agevolmente la Cingolana 3-0 e continua la rincorsa all'Ancona. La compagine Cremi si ha meritato ampiamente i tre punti, giunti al termine di una partita condotta dall'inizio alla fine. Beh, è una partita difficile, lo sapevamo. Il Tolentino è partito forte, ha trovato subito il gol, meritatamente. D'altronde la classifica dice questo, il Tolentino sta più avanti di noi di non so quanti punti, comunque è una candidata a vincere il campionato. Noi abbiamo avuto la palla per pareggiare, ma poi purtroppo siamo riusciti a creare solo quello. Ma i ragazzi non possono impropriare niente, abbiamo dato tutto dal punto di vista dell'impegno, della capabilità. Forse avremmo dovuto mettere un pochino di più di cattivere e determinazione a alcuni frangenti, ma purtroppo eravamo in emergenza, come sempre, del resto. Ma questa ovviamente non è una scusa, perché, ripeto, il Tolentino ha vinto meritatamente e sul risultato c'è poco da dire. Va bene quando si vince, fa una prestazione importante, va bene, però rimane quello che abbiamo fatto io domenica scorsa, che non è andato bene, quindi anche oggi qualcosina si è rivista, quello di domenica, qualche disattenzione, dobbiamo migliorarci. Grazie.